Teo, Bernard, Francois Hernandez. Probabilmente ho sbagliato la pronuncia, ma non importa. È il 6 luglio 2019, arrivi tu, un ragazzo acqua e sapone, pronto a prendersi il Milan in mano e portarlo in alto. Sono poche le aspettative che tifosi hanno su di te, dopo che sul web gira il video della tua presentazione con il Real. Ma loro non sanno che presto diventerai un campione. Avete presente quando in stazione sentite lui? Alta velocità, freccia rossa, 77, 94, di Trenitalia, è in arrivo al binario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. È la perfetta definizione di te stesso. Un treno, sì, ma di quelli veloci, che sulla fascia brucia i propri avversari come un frecciarossa. Carattere da vendere, grinta, determinazione, sono tutte qualità che possiedi. In campo dai sempre il massimo, senza stancarti mai. Ricordo ancora il ruggito contro lo zano. Mamma mia che brividi. Sei un giocatore dei mille colori, a volte biondi, a volte rosa e a volte blu. I tuoi capelli cambiano, ma non cambia quella cattiveria che metti in campo. Quella fascia è di tua proprietà e chiunque osi ostacolarti o superarti verrà rientata. Non so per quanto ancora ti vedremo in maglia rossonera, ma sappi che il tuo modo di fare e le tue prestazioni hanno fatto innamorare questo popolo di tifosi che ti celebra sugli spalti. Tanti auguri al nostro penino Teo.